Ora vediamo la seconda parte dell'esperimento del tubo di CUNTA aperto e chiuso che è molto più facile della prima. È più facile perché non dobbiamo variare la frequenza. Quindi non abbiamo molte onde risonanti come nel caso di prima, abbiamo un'onda sola, di una frequenza arbitraria che scegliamo noi. Avremo invece molte diverse lunghezze del tubo, mentre invece il tubo era fisso in lunghezza nel caso precedente. Qui avremo molte diverse lunghezze del tubo perché è la lunghezza del tubo che si deve adattare per far risuonare quest'onda, per esempio da 960 Hz. Invece nel caso precedente era la frequenza che si doveva adattare in modo che le onde risuonassero dentro il tubo lungo un metro. Quindi avendo una sola frequenza abbiamo un'unica lunghezza d'onda, a differenza di prima, e la possiamo calcolare con la solita formula. Per cui questa lunghezza d'onda è circa 35,4 cm, nell'esempio della frequenza a 960 Hz. Ricordiamo adesso qual era la condizione da rispettare affinché un'onda risuonasse all'interno del tubo aperto-chiuso. La condizione era che dalla parte aperta doveva esserci un nodo di pressione, dalla parte chiusa un antinodo di pressione. Ora, se noi, per esempio, mettessimo il tappo all'estremità come facevamo prima, allora vediamo che l'onda, questa onda particolare, non risuonerebbe nel tubo perché il tappo all'estremità non corrisponde a un antinodo di pressione. Il tappo va messo, invece, un po' rientrato all'interno del tubo, va messo in posizione, per esempio, L6. Qui sì che c'è un antinodo di pressione, oppure possiamo mettere il tappo a chiudere il tubo in posizione L5, in L4, cioè dove sono gli altri antinodi. Partiamo da sinistra, quindi, dalla prima posizione utile e mettiamo il tubo qui dove è il primo antinodo. Mettiamo, quindi, il tappo in posizione L1 e ci chiediamo quanto è lungo il tubo di Cunte, in questo caso. Beh, è molto corto perché parte da qui e finisce qua, è un tubo di pochi centimetri. Quanti centimetri, precisamente? Sarebbero 8,9 centimetri, poi vediamo perché è meno uno. 8,9 centimetri perché è un quarto di lunghezza d'onda. Infatti, il tubo parte da qui, finisce di qua e è lungo esattamente un quarto di lunghezza d'onda. Siccome la lunghezza d'onda era 35,4 centimetri, un quarto di lunghezza d'onda è 8,9 centimetri. Infatti, ho scritto che la prima lunghezza adatta del tubo L1 è un lambda quarti. Ora, vediamo perché è il meno un centimetri. Perché abbiamo detto che, se fosse veramente 8,9 centimetri, però, agli occhi delle onde sonore stazionari all'interno del tubo, il tubo apparirebbe più lungo di un centimetro nella parte aperta e quindi, di fatto, il tubo sarebbe lungo 9,9 centimetri. Se noi vogliamo che il tubo, di fatto, sia lungo un quarto di lunghezza d'onda, 8,9 centimetri, dobbiamo togliere questo centimetro perché poi sarà l'onda a vedere un centimetro in più. Quindi noi dovremmo mettere il tappo a 7,9 centimetri, così l'onda vedrà un tubo lungo 8,9 centimetri, perché l'onda rimette quel centimetro in più perché vede il tubo un po' più lungo. Ora, proseguiamo con lo stesso discorso cercando la seconda lunghezza risonante del tubo. Il tappo potremmo metterlo in posizione L2 perché, in questo caso, il tappo si troverebbe di nuovo in corrispondenza di un antinodo. Allora, la lunghezza del tubo andrebbe da qui fino al tappo e quanto sarebbe lunga? Sarebbe lunga 3 lambda quarti perché, infatti, vediamo che tra l'inizio e L2 abbiamo 1, 2 e 3 quarti di lunghezza d'onda, quindi 3 lambda quarti. Quindi 3 volte 8,9 centimetri, però sempre meno un centimetro perché altrimenti le onde vedrebbero un tubo più lungo di questo valore. Quindi dobbiamo prendere una posizione di L2, 25,6 centimetri, poi le onde ci rimetteranno quel centimetro in più per arrivare a 26,6. Proseguiamo stesso ragionamento. L3, terza posizione del tappo. Quanti quarti di lunghezza d'onda devono starci nel tubo dall'inizio fino al tappo L3? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda quarti, quindi 5 volte 8,9 centimetri, meno 1. E poi L4, L4, quanto è lungo il tubo da qui fino a L4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lambda quarti. E proseguiamo. L5, lunghezza del tubo in questo caso, è 9 lambda quarti. E infine, la sesta posizione del tappo, L6, il tubo a questo punto è lungo dall'inizio fino a L6, se contiamo i lambda quarti ne sono 11, 11 lambda quarti. E così siamo arrivati a 97,4 centimetri. Quindi è chiaro che L7 non c'è più perché il tubo ormai è finito, il tubo è lungo 100 centimetri e più di quello non possiamo mettere altre posizioni del tappo. Qual è la formula generale? Il tappo deve trovarsi in posizioni che si trovano distanti dall'estremità sinistra, pari a una quantità, 2N meno 1, che sono tutti dispari, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2N meno 1, cosa? Lambda quarti, quindi, e poi meno un centimetro come prima. Naturalmente, N parte sempre da 1 e infatti, se andiamo a sostituire 1, 2, 3, 4, troviamo tutta la successione dei numeri dispari. Quindi troviamo i numeri dispari 1, 3, 5, 7, 9, tutti questi, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e così via. Grazie.